Avete presente le zanzarone di cui ho parlato in un video tempo fa? Ecco, oggi sono qui a ripetere di nuovo che, che che se ne dica, le tipule, o meglio i tipulomorfa, non sono i maschi delle zanzare. Perché in un pianeta come il nostro, che è pieno di animali e di biodiversità, dobbiamo far ricadere sotto una specie conosciuta un animale che non conosciamo. Se non siete dentro questi argomenti, pensatela così. Quando vedete un animale diverso da un altro animale, per forma, colore, grandezza, eccetera, pensate che siano specie diverse. Vedrete che con questo presupposto cadrete molto meno spesso dalla parte del torto.